Qual è il commento del segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Dindalini sull'esito dei due comuni aghiettini che sono andati al voto? C'è soddisfazione ovviamente per la conferma di Margherita Scarpellini e per il neoeletto Roberto Pertichini a Montemegnaio. Sono due località importanti, una in Valdichiana dove la Scarpellini con una situazione difficile perché con tre candidati che si sfidavano per il sindaco è riuscita a prevalere, quindi complimenti non solo a lei ma a tutta la squadra per il buon governo che ha espresso in questi cinque anni e sicuramente anche per i prossimi che saranno di altrettanta qualità sul piano culturale, turistico e dei servizi. E anche a Roberto Pertichini che a Montemegnaio ha ottenuto uno straordinario 85% con il sostegno tra l'altro del sindaco uscente che ha lavorato molto bene e che vorrei ringraziare Massimiliano Mugnaini per tutta la collaborazione che ha dato in questi anni e soprattutto però in questo momento è importante augurare a Roberto un proficuo lavoro in una realtà difficile di montagna, una comunità molto coesa ma che allo stesso tempo ha bisogno di tutte le attenzioni degli amministratori. Le elezioni amministrative come ho sempre detto anche in momenti meno felici anche per questa provincia rappresentano degli spaccati locali. Sicuramente il trend nazionale non è stato un trend negativo per il Partito Democratico, abbiamo registrato un Movimento 5 Stelle che non si qualifica per nessun ballottaggio nelle grandi città d'Italia, c'è il recupero evidente del centro-destra che unendosi torna a costituire un punto importante nell'elettorato quindi mi sembra che comunque il risultato del PD sia importante, un po' meno brillante mi sembrano i risultati in Toscana dove siamo costretti a ricorrere al ballottaggio a Lucca, Pistoia anche con probabilmente qualche difficoltà, mi auguro che però i nostri candidati sappiano prevalere. Ecco questo della Toscana, hai visto anche i precedenti qui da noi a Ghezzo a Montevalli, c'è un problema di comunicazione, di appartenenza perché è diventata una regione così difficile da conquistare? Il PD quando diventa stimolatore o comunque aggregante di una coalizione di centro-sinistra riesce a prevalere, lo abbiamo visto anche nelle altre città d'Italia. Forse non sempre è così e a volte pecchiamo di autosufficienza e questo sicuramente non fa bene né alla politica né al fatto di portare avanti idee e battaglie valide.